Vergogna, vergogna e vergogna. Situazione stamani in via Capponi e questo e questo è il sottopasso. Ah, erano fatti i lavori invece in un anno e passa. Queste immagini sono dell'autunno 2020 e un'acquazione in questa zona della città. Siamo in via Capponi, una traversa di via Romana finisce sott'acqua. Ormai accade da anni disagi e danni che questi cittadini che vivono lungo l'asse di via Romana non dovrebbero più subire dopo i lavori annunciati dall'amministrazione comunale per mitigare o eliminare il rischio idraulico. L'annuncio del progetto definitivo arriva il 13 di agosto in pieno soleone alle prese con Lucifero, ma questo è solo un dettaglio. È servito un lungo periodo di gestazione progettuale, afferma l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti, necessario vista la particolare complessità del sistema idraulico fognario della zona, ma grazie alla fattiva collaborazione con nuove acque siamo giunti a definire gli interventi più idonei. L'amministrazione comunale, dopo aver stanziato le somme necessarie con l'ultima variazione di bilancio, ha approvato con delibera di giunta lo schema di convenzione tra Comune di Arezzo e nuove acque. È prevista dunque la realizzazione di nuovi collettori fognari e scolmatori di piena con recapito rispettivamente nel torrente Vingone e nel fosso Sellina. Due i lotti, 2 milioni e mezzo di euro circa l'investimento, 800 mila finanziati da nuove acque e 1 milione e 7 dal Comune, che una volta realizzati metteranno in sicurezza idraulica gli abitanti di Via Romana, Via Salvadori, Via Dante e le zone limitrofe. Nuove acque curerà tutta la parte progettuale e realizzativa delle opere. L'inizio dei lavori, burocrazia permettendo, è previsto per la fine dell'anno.